buongiorno a tutti allora si è disputata con la partita di ieri la trentaduesima giornata del campionato di serie a quindi bando alle ciance andiamo subito a leggere i risultati poi piano piano commenterò passo passo allora spagli juventus 2 a 1 romo dinese 1 a 0 milan lazio 1 a 0 torino cagliari 1 a 1 sandoria genoa 2 a 0 fiorentina bologna 0 a 0 sassuolo parma 0 a 0 chievo napoli 1 a 3 frosinone inter 1 a 3 e appunto partita di lunedì sera atalanta empoli 0 a 0 quindi andiamo a vedere un po quello che è successo del dettaglio partita per partita allora spagli juve juve in vantaggio con il suo nome king 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 e poi dopo però la spal prima bonifazi poi floccari che probabilmente non segnava da secoli l'hanno ribaltata e praticamente con questa vittoria la spal si è messa un attimino più tranquilla tra virgolette il problema è che naturalmente solite polemiche la juve ha giocato con la seconda squadra e quasi falsa il campionato e questo di qui e questo di su giustamente la juventus ormai al campionato ce l'ha in tasca quindi probabilmente verrà semplicemente tra due settimane a giocare una partita contro di noi poi per il resto domenica chiuderà il discorso con un pareggiotto con chiunque gioca perché gli basta un punto e poi probabilmente quelle successive alla partita contro di noi potrebbe anche perderle tutte perché tanto ormai lo scudetto ce l'ha in tasca ha un altro obiettivo quindi giustamente fa giocare le seconde linee non gliene frega più un emerito ciufolo ma sono cose che succedono da secoli da quando c'è il campionato le motivo quando si dice le motivazioni ma l'ultima giorno io ho visto l'inter scudettata del 79 80 per dare in casa 4 a 2 colascoli perché non gliene frega erano lì che festeggiavano hanno già lo scudetto in tasca sono usciti col tricolore tutto quanto era l'ultima di campionato la penultima adesso non mi ricordo ero piccolo mi ci aveva portato mio papà ai tempi dei tempi quindi nell'ottanta sono passati 39 anni quindi ci sta inutile che stiamo a far polemiche poi roma ordinese 1 a 0 la sbloccata a zecoma è stata una sofferenza per la roma pali da una papà pali pali occasioni sbagliate mirante che fa i miracoli e tutto quanto cioè poi continuano a perdere i pezzi anche loro lo so chi chi sta perdendo più pezzi tra noi e loro perché le zonzi de rossi vale poi milan lazio 1 a 0 reina fai reina fa il fenomeno chiesi invece la puccia e quindi milan lazio 1 a 0 lazio da quando deve recorre ci ha battuto basta ha smesso di fare punti vabbè anche lei vedremo domani con l'udinese cosa combinerà perché se dovesse perdere o peggio ancora cioè pareggiare o peggio ancora perdere con l'udinese buonanotte poi torino cagliari 1 a 1 non mi aspettavo che il torino venisse fermato dal cagliari invece purtroppo per loro un pareggio che potrebbe essere deleterio per la lotta almeno all'europa league non dico alla champions ma almeno all'europa league visto che adesso sono un attimino di essi la possono ancora giocare ma sono all'ultimo posto al fanalino di coda tra le squadre che si giocano l'europa poi come avevo detto io vedevo bene la sandoria con il genoa infatti ha vinto 2 a 0 nulla da eccepire l'ennesimo gol della quaglia invece non mi aspettavo che la fiorentina pareggiasse in casa col bologna con occasioni anche lì su occasioni ma se non la metti prendi i pali eccetera non vai da nessuna parte e quindi vabbè che ormai la fiorentina non ha più nulla da chiedere al campionato ma è la dimostrazione che non c'entrava Pioli ma che la squadra è da decimo posto più o meno c'è poco da fare fa un campionato tranquillo è una buona squadra ma ci sono squadre più attrezzate di loro appunto non c'è né da offendersi né da da fare poi sassuolo parma mi aspettavo una partita scoppiettante ho visto gli highlight di occasioni ce ne sono stati un po da una parte un po dall'altra però leggevo partita noiosa da papirus che è bravo quindi mi fido di lui che l'avrà vista per 90 minuti e magari col col fatto che negli highlight condensano tutto il bello della partita magari c'era solo quello da vedere quindi uno immagina che bella partita scoppiettante occasioni da una parte dall'altra invece alla fine ne hanno avuti tre per parte però condensate in un minuto sembra tanta roba poi vabbè il napoli passeggia col chievo si sapeva prende il gollettino della bandiera da dai nuovi retrocessi dai primi retrocessi però il napoli è lì fa soffrire ancora un attimino la juve non più di tanto però è lì tranquillo al secondo posto più 7 sull'inter e poi dopo sulle altre a 12 punti di 13 punti quindi è tranquillissimo frosinone inter 1 a 3 ne ho già parlato e infine c'è la super sorpresa ma vedendo anche lì gli highlight 47 tiri in porta dell'atalanta cioè c'erano i ragazzi che scrivevano 47 tiri in porta mi sembra se il sitworth abbia detto 40 tiri io non so devo dire che si fu la gufare bravissimo spero che non gli si ritorca contro la gufata perché poi il karma colpisce quindi comunque atalanta impoli 0 a 0 l'atalanta butta via un'occasione d'oro per portarsi in zona champions anche se secondo me ripeto e lo continuerò a dire per il momento la zona diciamo il suo mondo in europa è l'europa league lasciamoli fare esperienza in europa league per 1 2 3 anni e poi eventualmente perché se mi va in champions ma mi esci subito nel del preliminare o peggio ancora nella partita preliminare o peggio ancora visto che comunque in italia dovremmo andare direttamente nel girone nel vai nel girone e non avendo sei in ultima fascia ti becchi un girone malefico e vai fuori subito è vero che sono usciti anche inter e napoli dal girone però avevano comunque tutte e due dei gironi tosti con due squadre toste il tottenham che tanto prendevano per i fondelli al tottenham sta rischiando di arrivare in semifinale di champions era una squadra che tutti dicevano scarsa il barcellona sta per arrivare in semifinale di champions quindi noi avevamo un girone che due squadre su due sono ancora in in lizza per giocarsi la semifinale di cui uno ha già mezzo piede in semifinale anzi un piede e mezzo in semifinale e l'altro al 50 per cento di andare in semifinale probabilmente non ci andrà perché il city lo vedo più più squadra rispetto al tottenham però è lì quindi detto questo andiamo a vedere la classifica juventus 84 e lì è ferma 84 da un po' mancano praticamente cinque giornate alla fine se non sbaglio 6 6 giornate 6 per 4 da 6 per 3 18 massimo può arrivare a 102 punti quindi il record non lo fa napoli 67 può arrivare al massimo 85 quindi fa meno sei rispetto a sarri minimo poi c'è l'intera 60 che lì che potrebbe se il napoli si addormenta provare ad andarlo a prendere ma deve più che altro guardarsi le spalle perché c'è il milano a 55 la roma 54 la natalanta 53 che sono ancora lì che potrebbero saltarli addosso col milano lo scontro diretto a favore a favore quindi anche se dovessero finire a pari punti al quarto posto proprio nel nel caso estremo l'inter andrebbe in champions in milano in europa league la roma è a sei punti quindi è basilare nello scontro di sabato non perdere perché la lascia sei punti con cinque giornate dalla fine quindi con 15 punti te ne basta fare dieci in cinque partite che non è che sia una cosa impossibile calcolando che loro le devono vincere tutte poi se vinci tanto di guadagnato poi abbiamo l'atalanta 53 che per il di queste squadre è l'unica che ha lo scontro diretto con noi favorevole ma è a sette punti in più col pareggio con l'empoli diciamo che si è tra virgolette auto eliminata almeno per la sfida contro di noi con sette punti di distacco ce ne sono 18 da prendere tutti sicuramente non li può fare quindi diventa difficile poi c'è torino a 50 e la lazio che deve appunto giocare sta benedetta partita con l'udinese domani mercoledì e si spera che riescano a vincere almeno quella perché se dovessero pareggiare anche quella vabbè siamo a posto poi c'è la samp che a 48 che qualche chance di andare in europa league ce l'ha ancora e infine ci sono le squadre adesso arriviamo alle squadre ibride che non hanno più nulla da chiedere al campionato e che sono la fiorentina 40 tranquilla non può più raggiungere la zona europa non può essere non può non rischia nulla per la serie b si tiene il suo decimo posto deve solo guardarsi le spalle da sassuolo e cagliari che sono a 37 e poi per il resto problemi non ne ha stesso discorso per sassuolo e cagliari che hanno otto punti di vantaggio a sei giornate dalla fine sulla terz'ultima che è l'empoli quindi abbiamo parma e spal che non sono ancora salve ma quasi sulla carta gli bastano tre punti al sassuolo al cagliari e cinque punti al parma e spal per essere sicuri della salvezza quasi salvo il genoa che deve leccarsi le ferite per il derby perso che sapete benissimo perdere il derby non è mai una cosa carina però per il momento il genoa è ancora abbastanza tranquillo cinque punti sulla zona salvezza e poi ci sono le squadre che si giocheranno appunto quasi sicuramente la salvezza che sono udinese bologna empoli perché l'udinese a 32 bologna 31 l'empoli a 29 quindi tutte e tre sono lì che se la giocano proveranno magari facendo punti a inglobare qualche altra squadra a raggiungere al qualche altra squadra genoa spalle parma ma la vedo difficile più caldo per no difficile no ma comunque io mi parma lo vedo più tranquillo rispetto a genoa e rispetto a spal genoa e udinese soprattutto rispetto a spalle genoa che sono appunto a 35 34 l'udinese se la deve giocare fino alla fine a meno che il blempoli non si suicida nelle prossime due però staremo a vedere infine c'è il frosinone a 23 8 punti sul bologna dietro la vedo quasi impossibile la la salvezza però se incontra squadra che gliela regalano lui ringrazia perché comunque il frosinone se la giocherà fino alla fine e poi c'è il vero elitto chievo che già in serie b e penso stiano già programmando la prossima stagione perché loro ci sono abituati anche se ripeto la vedo molto dura anche perché adesso c'è anche campedelli che sotto inchiesta per le plus valenze e quant'altro non vorrei che gli girino leggermente le più scatole prenda e vada fuori dalla dal bip e qualche subentrerà al suo posto non so se riuscirà a riportare poi nuovamente il chievo ai fasti di un tempo comunque serie b serie a serie b serie a serie a serie a tutto tutto serie b serie a tutto 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 serie b cioè a lasciarlo per un po di tempo in serie a e magari comunque rientrare subito dalla serie b alla serie a in più in serie b il verona non è detto che ce la possa fare ad arrivare terzo o comunque a giocarsi poi playoff e venire in serie a perché c'è una bella lotta quindi c'è il rischio l'anno prossimo che il verona che verona la città di verona abbia tutte e due le squadre in serie b comunque settimana prossima ci sono degli interessanti scontri diretti perché abbiamo Napoli e Atalanta e sapete benissimo che tra Napoli e Atalanta non corre buon sangue diciamo quindi non penso che Napoli regalarà nulla l'Atalanta l'Atalanta dovrà andare là a giocarsela e quindi per lei non è una sicuramente una giornata positiva giornata positiva per la Lazio che potrebbe fare in due partite 6 punti perché gioca in casa col derelito Chievo mercoledì domani ha la sfida con l'Udinese in casa quindi 6 punti potrebbe rilanciarsi completamente arrivare a 55 lune già alla fine della prossima giornata e la cosa si farebbe interessante per loro poi c'è un Juve Fiorentina con due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato e vedrai bene uno 0 a 0 squallidissimo però attenzione perché la Juventus vale lo stesso discorso di Napoli e Atalanta alla Fiorentina difficilmente regalerà qualcosa poi c'è un Cagliari-Frosinone che ahimè potrebbe definitivamente dare il de profundis al Frosinone quindi è una partita in cui tutte e due le squadre perché se il Cagliari vince è salvo arriva a 40 però il Frosinone perdendo toglie le ultime chance di salvarsi se il Frosinone vince si rilancia e mette leggerissimamente si fa perdere il Cagliari in difficoltà che comunque ha altri 5 match point per fare questi tre punti e arrivare a 40 quindi attenzione perché è una partita da 1-2 per intenderci il pareggio non servirebbe a nessuno servirebbe più al Cagliari che non al Frosinone poi c'è un Parma-Milan che è particolarmente interessante perché comunque il Parma ha bisogno di fare punti ha una difesa che regge bene il Milan ultimamente sta facendo abbastanza fatica a fare gol dopo un periodo in cui gli andava sempre tutto tutto bene adesso ultimamente nell'ultimo mesetto così e sta scalchignando anche lui però ha bisogno di fare i tre punti quindi anche qui è una partita non certo facile il Parma non può permettersi di regalare nulla perché è ancora in zona pericolo e quindi attenzione a Milan-Parma poi c'è Inter-Roma con due squadre che hanno il centrocampo a pezzi non so in Zonzi se rientra nella Roma o meno ma so che De Rossi è out e sappiamo benissimo l'importanza che ha De Rossi per questa squadra quindi è una partita anche questa apertissima in cui tutto può accadere l'Inter ha il fattore campo ma non c'entra nulla quindi è partita da giocare con due squadre appunto incerottate poi c'è una bella sfida Bologna-Sandoria con un Bologna che ha preso un attimino di ossigeno due punticini e sopra l'Empoli ma non può certo permettersi di perdere è una Sandoria lanciatissima nel cercare di arrivare in zona Europa visto che tutti gli anni è lì e lì e lì e non ci arriva mai quindi è altra partita da 1-2 perché anche qui il pareggio diciamo che forse serve più al Bologna che non alla Sandoria però a tutte e due servirebbe vincere, c'è poco da fare poi c'è un Udinese Sassuolo che anche qui è dentro fuori perché l'Udinese se vince si rilancia e diciamo che portandosi a 35 si avvicina alla squadra emiliana e lì magari cominci a preoccuparti un attimino anche se hai l'Empoli a 29 eccetera però sai a cominciare ad avere la quinta ultima che si porta a due punti da te non è il massimo quindi anche questa è una partita da doppia 1-2 perché comunque il pareggio tendenzialmente potrebbe anche andare bene attenzione perché l'Udinese un punticino in più gli fa comodo il Sassuolo gli serve per avvicinarsi ulteriormente a quei 40 punti che dovrebbe essere la soglia salvezza e poi abbiamo Empoli-Spal Empoli-Spal questa è una partita importantissima per la squadra di casa se vince si rilancia perfettamente e mette in crisi anche la Spal perché si porterebbe a tre punti dalla Spal e quindi attenzione la Spal nello stesso tempo non può permettersi di perdere lo scontro con una diretta concorrente quindi anche qui ci sarà sicuramente da divertirsi poi spero che non facciano gli ennesimi 0-0 inutili, noiosi eccetera ma si sa che quando c'è di mezzo la salvezza e tutto quanto anche il punticino può essere importante quindi attenzione all'Under magari però non ce lo vedo io vedo delle partite belle e toste in cui le squadre non si risparmieranno di sicuro indifferentemente che siano o meno salve o meno in zona ibrida o meno eccetera 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 infine c'è Genoa-Torino e anche qui vale lo stesso discorso delle altre il Genoa non è tranquillo perché se l'Empoli dovesse battere la Spal se lo trova a due punti di distacco e non è bello e il Torino si sta giocando le ultime chance di Europa perché una sconfitta col Genoa potrebbe dire, voler dire, salutare la zona appunto Europa comunque vederla allontanare anche se l'Atalanta è a Napoli quindi se dovesse perdere il Torino e l'Atalanta malauguratamente non me ne vogliono i tifosi di Bergamaschi però a Napoli sicuramente il Torino c'è una trasferta tra virgolette più semplice col Genoa che non l'Atalanta col Napoli anche se le motivazioni sono diverse il Napoli è già quasi certo della zona Champions ed è abbastanza tranquillo per quanto riguarda il secondo posto per ora viceversa il Torino va a Genova contro un Genoa che dopo la sconfitta nel derby vorrà punto primo rifarsi e punto secondo deve guardarsi anche alle spalle perché le altre non sono lontanissime è un paio di passi falsi e tu sei in zona pericolo bene, detto questo staremo a vedere cosa succederà la settimana prossima io ho parlato anche troppo e ci vediamo al prossimo video ciao